Nuova Scandone, vecchi difetti. A pala allo sito di Corato è arrivato il quinto K.O. di fila per i bianco-verdi di coach De Gennaro, che al cospetto di una Corato vogliosa e sul pezzo, hanno pagato 15 minuti di blackout vissuti a cavallo fra il primo e il secondo quarto. Il meno 23 accumulato all'intervallo lungo ha rappresentato una montagna troppo alta da scalare per un Avellino che nei secondi due quarti ha mostrato una faccia diversa, senza però riuscita ad andare oltre il 75-66 finale. Una squadra dai due volti, troppo brutta per essere vere nella prima parte di gara, quando a parte qualche giocata di Marchetti, il migliore dei nuovi arrivati, si è mostrata troppo arrendevole al cospetto di una Corato che aspettava i bianco-verdi al varco e che, mettendo sul parquet aggressività e fisicità, ha preso possesso, fin troppo facilmente, di un match che poteva rappresentare una ghiotto occasione per la Scandone di piazzare il secondo successo in trasferta della stagione. Con otto giornate da giocare, la situazione ora si fa ingarbuiata per il roster erpino. Le vittorie di Cassino, al quinto successo in sei partite, e di Formia hanno infatti regalato al club bianco-verde nuovamente il penultimo posto in classifica, in solitaria. Una situazione complicata che non dipana le nubi all'orizzonte bianco-verde, in attesa di capire se dal Tribunale federale arriverà o meno la sconfitta a tavolino per il match dell'andata proprio contro Corato. Le due sfide interne di fila previste dal calendario saranno a questo punto fondamentali per cambiare marcia e mettersi a riparo dalla possibile lotta per l'ultimo posto in classifica occupato da Scauri. Al momento, lontano, quattro punti. In tal senso sarà fondamentale inserire al meglio Stanzani e Dillas, apparsi spaisati nel match di ieri come un po' tutta la squadra. Anche perché di errori, da cui alla fine la scandone potrà consentirse davvero pochi.